pure non si sapeva, però ha trovato il tempo di scendere da Roma ed andare a firmare da un notaio o meglio in un sottoscala, non so neanche dove andare Assunta, dopo che si è stato l'avvicendamento come vice sindaco non si è vista quasi mai alcunque delle deleghe assegnate i risultati sono stati quasi pari a zero di contro, anche legittimamente, però dopo che noi avevamo fatto una rinuncia mi ha chiesto diverse volte lo stipendio questa è una richiesta legittima, ma questo prevede un impegno non di Cacca24 ma almeno come gli altri consiglieri Francesco, diverse volte l'ho stimolato perché si impegnasse di più ha addotto problemi personali in diverse situazioni